In previsione di un'estate torrida e di problemi di siccità, la Gran Sassoacqua si è preventivamente organizzata a fare il punto al presidente dell'azienda, che gestisce il servizio idrico integrato nei comuni soci, Alessandro Piccinini. Nel territorio aquilano, secondo il presidente, non dovrebbero esserci particolari problemi, come in altri territori, perché l'azienda si è organizzata razionando innanzitutto l'acqua nei punti pubblici, cioè le fontane, e a riserve a sufficienza. Il presidente fa però del distinguo tra zona ovest e zona est. Ci stiamo organizzando da tempo, ovviamente, razionando l'acqua sui punti pubblici per quanto riguarda le diverse zone. Va detto preliminarmente che fortunatamente non credo andremo incontro alle difficoltà che altri gestori del sistema idrico integrato in Abruzzo, ma in tutta Italia, direi, dovranno affrontare, quindi con carenze importanti di crisi idriche. Quanto riguarda la zona ovest, non dovrebbero registrarsi grossi problemi, perché come detto comunque si è agito in anticipo con ricerca perdite, con razionamento dell'acqua sui punti pubblici e quindi si è creata una riserva che ci dovrebbe far consentire di affrontare il periodo estivo e di siccità, previsto anche rispetto alle previsioni, con grande tranquillità e serenità. Per quanto riguarda invece la zona est, stesso discorso, con due variabili che però vanno prese in considerazione. Una è sicuramente il Gran Sasso, perché ovviamente la convivenza difficile che c'è sul Gran Sasso tra strada dei parchi e sistema idrico integrato e laboratorio spesso mette in difficoltà la gestione proprio del sistema idrico. Sono previsti diversi interventi all'interno della galleria. Noi agiamo sempre preventivamente e applicando dei protocolli di sicurezza e di protezione per quanto riguarda i cittadini. Come sempre stoccheremo quell'acqua perché abbiamo un sistema che ci consente di stoccarla e di analizzarla prima. Speriamo non si creino difficoltà e problemi. Stiamo cercando di lavorare anche molto sulla comunicazione preventiva. C'è l'attavico problema però del comune di Villa Santa Lucia. L'aumento estivo della popolazione residente provoca una diminuzione della risorsa idrica che però la Gran Sasso sta tentando di risolvere. In quel caso agiamo sempre con delle autobotti, anche se in previsione. Anche questo è un problema che contiamo di risolvere, visto che c'è la possibilità e ormai quasi la certezza di acquisire come comune Capestrano dove c'è una sorgente idrica che in quel caso ci consentirebbe di risolvere anche il problema di Villa Santa Lucia.